Abbiamo messo insieme due realtà che qui sul territorio sono molto conosciute, erano presenti, quindi da una parte un'azienda storica che era la Ex Pirelli, che purtroppo questa multinazionale Beccherta ha deciso di chiudere. Come si diceva sono stati raccolti questi fondi di solidarietà da parte della cittadinanza, ma del territorio tutto, non solo di Fidine, e dall'altra parte il Calcite, che è un'associazione che qui sul territorio fa tanto bene alla cittadinanza, a chi ha bisogno, è bisognosi, hanno raccolto i fondi proprio per chi è malato, l'assistenza dei malati ai tumori, e quindi siccome questi soldi avevamo, il fondo di solidarietà era stato raccolto dai delegati, all'RSU, quindi parte WIM, FIM e FIOM, la parte della WIM è stata deciso, la parte residuale, quella rimanente, di fare un qualcosa e tornasse alla cittadinanza, che purtroppo l'azienda, come vi dicevo, è stata chiusa, però le risorse sono state raccolte e la parte rimanente, quindi quella non utilizzata, era dal nostro punto di vista, soprattutto di Giuliano Poggialini e di Luca Cappelli, che erano gli artefici che gestivano questo fondo per conto dei colleghi della WIM, di restituirlo alla fettinanza, una donazione. E qual miglior, diciamo, fondo, qual miglior associazione era i Cacet, proprio perché sul Valdarno Fiorentino ha fatto e farà del bene, quindi sappiamo sicuramente che queste risorse saranno ben utilizzate e saranno restituite al territorio, quindi quello che il territorio ha dato a questa vertenza, che purtroppo è finita male, servirà di nuovo al territorio per altri progetti, quindi questo ce l'auguriamo e quindi mi fa piacere essere presente in rappresentanza della WIM e sostegno sia dei Cacet che dei lavoratori che hanno avuto questa bella idea di restituire queste somme rimanenti.